Oggi, sentiti incoraggiato perché Gesù è al tuo fianco. Non lasciare che le tue lotte ti scoraggino, poiché tutti affrontiamo prove, tentazioni e tempeste nella vita. Tuttavia, non sei mai solo, perché Gesù è sempre presente, sempre in movimento, per offrirti il massimo sostegno. Nel bel mezzo delle difficoltà, invocalo, invitalo nel tuo cuore. Chiedigli di camminare al tuo fianco durante la tempesta e vedrai come i venti della disperazione si calmeranno e le onde della turbolenza si abbasseranno. Con Gesù, non devi affrontare queste battaglie da solo, perché si avvicina come un vero amico, sempre pronto ad aiutarti, sollevare i tuoi pesi e alleviare le tue preoccupazioni. Sappi che oggi sta passando per te. Gesù ha aperto una via per il Padre ed è attraverso di Lui che troviamo la vera pace. Quando la guerra interiore si risveglia dentro di te, invocalo, perché è la luce che la tua anima desidera. Proprio come la luna d'inverno avvolge l'oscurità della notte, Gesù è la tua ancora di salvezza, la tua guida sicura e costante. È il Creatore, il Donatore della vita, il Cristo stesso. Segui i Suoi insegnamenti e trova in Lui l'unica luce che devi seguire. Anche di fronte alle turbolenze quotidiane, puoi superare tutto, basta aggrapparti a Gesù, perché è la corda di salvataggio che ti sostiene e ti tiene saldo nelle avversità. Per ricevere le benedizioni che ha riservato per te oggi, lascia la tua email nei commenti e iscriviti a questo canale. Qui troverai parole di saggezza, ispirazione e guida per il tuo percorso spirituale. Apriti alla possibilità di ricevere le benedizioni che Gesù ha da offrire e permetti che il tuo cuore sia riempito dalla pace e dalla speranza che solo Lui può donare. Ricorda, Gesù sta passando oggi, portando amore, compassione e aiuto in ogni momento. Fidati di Lui, confida nel suo potere trasformatore e scopri il sostegno divino sempre disponibile per te.